Non è male, è ovvio che se ne sia parlato, è venuto anche a spiegare per quello che doveva il direttore Gemmi, però noi dobbiamo pensare al campo, non sono robe di nostra competenza, non sono argomenti che ci riguardano, anche se ci possono toccare in quanto siamo dipendenti dell'Arezzo, però ci sarà chi di dovere che ne parlerà nelle sedi opportune, al momento opportuno noi dobbiamo pensare solo e esclusivamente ad andare a Roma e andare a ottenere il massimo di quello che è possibile da una gara complicata, difficile, in un momento particolare, su un campo pessimo contro la squadra che nelle ultime quattro gare, anche se ultima in classifica, è quella che ha fatto più punti di tutti. Un po' per il campo che troveremo, non è un campo bello, è un campo come fondo in pessime condizioni, almeno la gara, se non hanno cambiato tutto in questi 15 giorni, la gara con il Como ha fatto vedere questo, che si può giocare poco, si può fraseggiare poco, sarà più una seconda palla, una palla lunga, andare sull'errore dell'avversario, quindi sarà determinante riuscire ad adattarsi alle condizioni, tra l'altro ha messo anche pioggia, poi non so quanto reggerà il campo, quanta ne verrà. Dovremmo essere bravi in questo, sì, te lo confermo, è una convinzione che ho, credo che si possa decidere più da questo punto di vista la gara che non dalla qualità del fraseggio, dalla qualità delle giocate. La formazione l'ho quasi scelta, non del tutto, però insomma l'ho quasi scelta, non l'ho comunicata ai ragazzi, non sanno niente, qualche volta il giorno prima della gara gliela comunico, oggi non ho detto niente a nessuno, staranno tutti sulle spine fino a domani. Luciani, Alessio, ha avuto una risonanza magnetica, ha evidenziato una lesione fra il primo e il secondo grado del collaterale, mediale, come tempisti che vi dirà qualcosa di più magari lo staff medico, sta facendo fisioterapie, allenamenti differenziati, specifici per non perdere il tono muscolare.